Una gita a bordo della slitta di Babbo Natale sulle acque del fiume Adda. La bella iniziativa, preso il via a Pizzighettone nel Cremonese, gli ha riscosso da subito un grande successo. 20 minuti comodamente seduti su un battello che permettono di ammirare da una prospettiva d'eccezione il borgole su Antichemura, accompagnati da Babbo Natale. Abbiamo pensato di allestire il nostro battello che usiamo in estate, addobbato e allestito proprio come una vera slitta di Babbo Natale. Abbiamo il pilota vestito da Babbo Natale, abbiamo le renne che trainano la slitta, tutti gli addobbi tipici natalizi con sfondo rosso e le famiglie arrivano con i bambini entusiasti perché chiaramente poter fare una foto insieme a Babbo Natale, apprezzare questo giro di circa 20 minuti che facciamo qua passando sotto il ponte con la vista della nostra Torre del Guado è qualcosa che per dicembre mai si era visto qua a Pizzighettone. Un modo sicuramente originale anche per valorizzare il fiume Adda in inverno. Qui siamo nel parco regionale Adda Sud e al di là proprio delle iniziative estive tipiche della primavera, anche qui si dimostra che anche a dicembre, non essendo proprio una stagione tipica per le gite in battello, però fatta così si presta anche per avvicinare la gente, gente che arriva al di là delle famiglie qui di Pizzighettone, anche dal circondario e proprio anche oggi abbiamo gente che arriva da Piacenza, da Sospiro, da Lodi, quindi ci fa molto piacere che possano arrivare anche quindi Pizzighettone molto attrattiva anche dai paesi limitrofi. La slitta di Babbo Natale navigherà sul fiume tutti i pomeriggi fino all'8 gennaio.